Ciao, sono principessa Maria Pia Ruspoli, abito in questo palazzo che appartiene alla famiglia da oltre 500 anni. La mia vita non è stata sempre così. Vengo da una famiglia molto semplice siciliana, ho fatto l'attrice per molti anni e quando ho conosciuto mio marito mi sono trasferita in questo palazzo e ho imparato a fare la principessa. Cosa significa essere principesse oggi? Non significa abitare in un bel palazzo o sposare un principe, ma essere semplicemente perfette, essere sobrie, corrette, eleganti, insomma in poche parole essere delle vere principesse. All'inizio avevo paura di non essere all'altezza di questo ruolo, poi con pazienza e dedizione e voglia di imparare ho appreso i segreti che vi svelerò.